Sonic, alzati! Tutte le dimensioni stanno collassando. Nine ti ha tradito e ci ha lasciati lì a morire. Salta! Non c'è niente che io non possa fare. Potrò plasmare il tetro come voglio. Il mio paradiso! Qualunque sia il suo piano sta creando delle fratture dimensionali. Il tetro sta iniziando a sfaldarsi. Allora cos'è che manca? Non pensavo sarei stato felice di tornare a New York. Non capisci? Nine vuole la tua energia. È lo stesso tipo di energia che alimenta questa città. Catturatelo! Mi servirà una mano per fermare Nine. Resisti, sto arrivando! Quelli sarebbero... Mortali uccelli metallici furiosi. Sparite dalla mia proprietà! Voi mi state aiutando? Se non fermiamo quella volpe è impazzita. Noi è tutta New York City. Non esisteremo ancora per molto. Se Nine mette le sue code su di me, sarà game over per tutti noi. Questo è il mio mondo! A riparo! Andiamo a insegnare a Nine che se si mette contro uno di noi, si sta mettendo contro tutti! Carica! Sbrigati! Oh, non ce la farà! Resisti, Sonic! e fac Trocati! ! E... Grazie per la visione!